ciao a tutti i play benvenuti in questo nuovo video della serie su minecraft della ps4 siamo in compagnia di 7999 bella raga perfetto oggi se sentite sono con le cuffie mie esatto si sente un eco micidiale è perché è normale e non si può cambiare vabbè ragazzi mi si è attivato il volo non so perché togliere sì sì sai come si fa sì sì ragazzi lo tolgo mentre sono in alto così muoio nooo o si rai agacco questo per i miei 10 iscritti ok ok tolgo intanto prendo carbone ragazzi morirò per voi intanto mori lì e riprende la roba e vabbè certo non è che devo perderla facciamo esperienza col carbone intanto io vado a prendere un po di terra perché perché mi piace la terra ti dà l'agricoltura si intanto guardate la crafting che in questa serie è la prima volta che allora legno non è un zucchero le taglio allora dobbiamo prendere un po di legna perché faccio torce con i quali andrò spero in un dungeon se vuole partecipare saetta si vuoi venire nel dungeon non so se definirlo proprio un dungeon non ha la lava però potrebbe scendere aspetta oh esplodi e si il pollo ragazzi intanto tu sai fai io mi teletrasporto magari o vengo normalmente come ma non venire vengo io perché vieni tu vabbè allora vieni intanto mi devo fare un po di hai del legno cosa che mi ha non devo fare un piccone no no c'è il bosco qua non mi serve no no c'è il bosco qua non mi serve e ovviamente non lo faccio ragazzi cioè non l'ho fatta che scemo sono devo un po' abituarmi a questa crafting no perché fammelo ok ok te lo faccio subito ma no ma so come si fa dammelo ok tenga è notte e taglie non è notte ah no era buio è buio notte no sono all'ombra cioè comincia a farsi buio ma non ancora ho spaccato i letti perché dormiamo nel dungeon così ci spaviamo di nuoli non è una cosa geniale no perché perché perdiamo tutto no dormiamo nel dungeon visto che è notte ma chi se frega tanto no albi nel dungeon è sempre buio non ce ne frega niente ah già però dobbiamo dormire adesso e poi torniamo a casa a posarino andiamo a casa no 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 prendiamo il letto qui va bene però li prendi poi sì sì ma non ci dormiamo tanto adesso sì sì ma poi no sogni d'oro notte mangia hai di cibo io io una carota io una carota no non ho niente allora tu vai nel dungeon intanto mi faccio una spada prendo il mio letto e andiamo no perché che senso ha prendere il letto mica lo lasciamo qua anzi io vado a casa ma ma scusa è perché allora abbiamo dormito per setare lo spawn che non no abbiamo dormito per tornare a casa di giorno che meno pericoloso e cosa c'è a cosa serve allora ah vabbè impostiamo il punto di rigenerazione a casa così aspetta non romperla devo fare una fornace l'ho già fatto dov'è ce l'ho io mettila andiamo a casa devo cuocere il forno vabbè andiamo a casa grande no io non corro ma è naturale correttamente talmente a letto c'è il terreno si è preso io tu sei andato ho impostato al punto di rigenerazione dai impostano anche tutto mi faccio anch'io il piccolo inferno dammene due te lo faccio io no no dammene due vabbè tre no due perché ce n'ho anch'io vabbè io mi faccio la spada a questo punto metti il legno qua posalo perché perché non ci serve sì che ci potrebbe servire dammi qualcosa almeno uno o hai delle stecche tenga grazie non me le date il legno vuoi nasce no ma portala chi ne è tu però no è due ne tengo ne ho posa una non aspettare mai le cose ho sbagliato metto giù il ferro hai un altro pezzo mi chiede un mio necino mi chiede un mio necino ho 5 ti servono 2 2 aspetta cosa fai eh fidati non mi fido tanto non scherzo cosa devi fare? cosa devi fare? cosa devi fare? un pezzo cosa devi fare? guardami si ci sto guardando no guarda a me ah si si ti sto guardando l'hai visto? si si ti ho visto cioè andiamo in miniera? si prenditi una fornace ce l'ho già andiamo io la coble sto andando andiamo la crafting ce l'hai? ce l'ho ok andiamo in quello che avevo trovato io in questa video non abbiamo fatto niente praticamente quanto è passato? io ho messo non ho messo il timer ottimo ma allora andiamo solo in miniera solo in miniera il dungeon che avevo trovato la prossima ok ok che sto morendo tu caverna un teletrasporto perché io in questo mondo non mi so per niente orientare si sa più orientare lui anche se ma dovremmo essere uguali ah aspetta 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 albi vieni si si ti c'è tieni un po' di torce ma hai letto che abbiamo posizionato eh no ma io ho messo il punto di rigenerazione lì ma si infatti tu no porca vabbè al massimo lo metti qui al massimo il punto di rigenerazione ok allora facciamo se no lo possiamo spostare ogni tot quando c'è un bivio cucina oh lava interessante cos'è dov'è me ne frego ok non me ne frego c'è un arciere che non riesco a prendere quindi l'arco che ti sei fatto ah non ho fatto un arco non so che mi fatti recupera 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 cosa vita dicevo a me è qua sopra maledetto scherzo ah intanto io ho fatto la base ottimo protetti siamo protetti tu che no ah bello cioè bello ma tanto cioè ora che tu sei qui potresti benissimo essere protetto sei giusto qui un po' più in qua vedi sì ma non vedo neanche wow ferro lo prendo io ecco qua eh ma non puoi prenderlo dove sono io ok puoi prenderlo perché tanto dovrei lo schetro sparisce misteriosamente oh oh già devo mangiare ferro ferro là sopra aiuto ragazzi scappa ammazzalo a picconi muori muori grande è bravo ma adesso scappa mangia cioè è già mangiato madonna tutta in un momento mi sono successo mi inquieto un po' vabbè senti direi che il video finisce qua sì sì dai ragazzi per questo video è tutto e ciao ciao ciao